azioni qui comincia a covare troppa ribellione non vanno al mulino a macinare ma solo dio sa come fanno ma mangiano no sbagliato sbagliato non ci volevo quel ma prima azioni certo che si aspetta azioni noi stiamo buoni che borbo non volemo canciare patrulla si 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 chiama canciare ma fate cap 1 fate cap che caro c'è raffreddare schiena noi non ha fatto niente ma è schiena e poi copia e mondese no caro c'è non capivo manco quando parla a cap che c***o ma non si scherzate ma vedi quante euro vuoi giocare pare con panini e placato il girvedo è tremenda a fare i capri passi, accambi niente, è un po' d'ascolto a chi non è capace di prenderlo così la sera è una decina di voto, ci puoi fare cinque anni al mio pasto il regato, ecco le schede copriti la camicia che si vede loro abbiamo fatto 10 minuti a dire che erano mia donna e alla luna e alla quarta ci siamo? dai! silenzio? ci siamo? silenzio ascolta